Buone notizie per i circa 100 comuni del Salernitano ma anche dell'Irpini e del Beneventano che portano i loro rifiuti organici al sito di trasferenza di Sardone e di Giffoni Vallepiana gestito da Ecoambiente e la società operativa dell'Eda Salerno. Dal 1 marzo la tariffa di conferimento si è ridotta di 5 euro, da 165 a 160 euro a tonnellata consentendo un risparmio di ulteriori 300.000 euro per i comuni che conferiranno se sarà confermato anche per il 2022 il dato dello scorso anno di 60.000 tonnellate in ingresso. A dichiararlo Giovanni Coscia, presidente dell'Eda, risorse che potranno essere utilizzate, ha spiegato Coscia per migliorare la qualità dei servizi di igiene ambientale erogati ai cittadini o per ridurre la Tari. Questa riduzione della tariffa di conferimento al sito di Sardone è la seconda da quando, poco più di un anno fa La titolarità del sito è passata da Gesco all'Eda, che ne ha poi affidato la gestione ad Ecoambiente. Inizialmente i comuni pagavano 171 euro a tonnellate, complessivamente il risparmio è di oltre 660.000 euro. Il risparmio di ulteriori 5 euro a tonnellate è dovuto alle attività messe in atto per ridurre le impurità, ha spiegato Vincenzo Presrosino, presidente di Ecoambiente, che hanno consentito il riconoscimento di un prezzo inferiore per il conferimento all'impianto della SESA, SPA, la società in provincia di Padova, dove è destinato l'organico. E sempre in materia di frazione organica, si ormai prossimi ad un altro risultato molto atteso dalle comunità della Piana del Sele. A giorni, ha annunciato Giovanni Coscia, presidente dell'Eda, la Regione Campania approverà il progetto che consentirà di appaltare i lavori per confinare e ridurre le emissioni di cattivi odori che tante problematiche hanno determinato soprattutto per i cittadini di Battipaglia. Come è noto, con l'accordo siglato tra il Comune di Eboli e Eda Salerno, oltre alle gestioni dell'impianto che è passata alla società pubblica Ecoambiente, è stato volturato all'Eda anche il finanziamento regionale di circa 2 milioni per eseguire i lavori di miglioramento dell'impianto. Ma c'è di più. Dopo solo i due mesi, annuncia Coscia, è stato raggiunto l'obiettivo della massima capacità produttiva dell'impianto di Eboli, che è di 15 mila tonnellate annue di organico. Alle 5 mila tonnellate iniziali di Eboli si sono aggiunte prima le 7 mila di Battipaglia, nei giorni scorsi le 3 mila di Campania, io levano sul Tusciano, nel rispetto del principio di prossimità. I rifiuti devono vaggiare il meno possibile, solo realizzando gli impianti necessari. La provincia di Salerno potrà affrancarsi dal fenomeno della migrazione dei rifiuti in Italia e all'estero e rendersi autosufficiente con considerevoli riduzioni di costi a carico dei cittadini.